Continua positivamente l'avventura dell'Alzano Cene in questa dodicesima giornata del campionato di Serie D. La trasferta in quel di Verona con la Virtus Vecomp vale 3 punti per l'Alzano Cene, che conclude il match per 1-0. Sale quindi a 16 punti il bottino di classifica della squadra seriana. I ragazzi di Mister Sgro sono pungenti fin dai primi minuti di gioco. Valenti intercetta il rilancio di Ostricati e prova la conclusione, che termina di poco fuori dallo specchio della porta. La Virtus attacca con Micheloni, che dalla distanza con un grandestro accarezza la traversa. La risposta dell'Alzano Cene non tarda ad arrivare. Dattoma stringe al centro per Spampati, che prende tempo e si libera dalla marcatura. Dattoma puntuale lo serve e il numero 10 seriano impegna Fanini, che blocca in due tempi la conclusione. Spampati è nuovamente pericoloso al minuto 28. Da calcio piazzato, gran tiro diretto verso la porta, ma l'estremo difensore Fanini è pronto. I padroni di casa incalzano impegnando spesso e volentieri Ostricati, che in poco più di 5 minuti deve intervenire ben 4 volte, per mettere bene in chiaro che la propria porta è off limits. È ancora una volta Spampati a mettere la sfera in rete. Scatta in velocità dal centrocampo, ma Boldrini ferma la sfera. Agostinelli recupera, appoggia sulla destra e Spampati alla meglio sulla difesa veneta. Tira e sorprende Fanini, siglando la sua decima rete e il vantaggio dell'Alzano Cene. Siamo al minuto 38, ma i seriani non sono ancora paghi. Spampati dalla destra mette in centro, la difesa della Virtus intercetta, ma il rilancio è corto e Serafini ne approfitta per tentare la rete. Nella ripresa l'Alzano Cene gioca per difendere a tutti i costi il vantaggio, mentre la squadra di Mister Fresco è tutta in avanti per cercare di equilibrare il risultato. Bella l'azione al settimo di Bortignon che lancia in aria. Rebecca intuisce, attraversa l'aria e dalla destra obbliga Ostricati ad intervenire. Qualche scaramuccia da entrambe le squadre caratterizzano il resto della partita. Da Toma, per esempio, ci prova con un tiro dalla distanza, troppo debole e troppo centrale, facile per Fanini. Più insidioso invece è il gran tiro di Serafini, deviato in extremis dal portiere avversario. La Virtus ci prova fino a in fondo, ma con scarsi risultati. L'Alzano Cene vince il match collezionando la sua quarta vittoria in cinque partite.